Ho solo 10 secondi per fare l'intro, quindi salve a tutti amici scacchisti, bentornati nel canale e oggi guardiamo i finali di cavallo per la rubrica sui finali elementari. Buona visione! Partiamo subito da un'eccezione, questa posizione non la troveremo mai nelle nostre partite, ma è bene vederla per sviluppare le nostre capacità tattiche e di calcolo in generale. I finali sono un buono strumento per allenare queste componenti del gioco. In questa posizione il nero ha un pedone di torre e il re davanti e quindi c'è la possibilità per noi di dare matto affogato da questa posizione. Ora per dare matto affogato siamo matto col cavallo, è l'unico pezzo che abbiamo d'altronde. Questo vuol dire che il re dovrà finire in h1, il pedone dovrà finire in h2, il nostro re dovrà controllare le case g1 e g2, anche se le ho fatte vedere al contrario sono queste, e il cavallo dovrà dare scacco matto. Quindi notiamo subito che per attaccare h1 il cavallo o deve stare in g3 o deve stare in f2. La seconda cosa che notiamo è che visto che il matto deve essere affogato, l'ultima mossa del nero deve essere h2. Questo vuol dire che non può giocare re h2, quindi il cavallo dalla casa da cui giunge in g3 o in f2 deve controllare anche h2, altrimenti l'avversario giocare h2 non si fa dare matto. Questo vuol dire che se diamo matto in g3 la casa da cui si controlla sia g3 che h2 è f1, quindi il cavallo prima di andare in g3 stava in f1, se diamo matto in f2 il cavallo stava in f4 perché da lì controlla anche la casa h2. Bene, questo ci dà anche indicazione su dove debba stare il nostro re, perché se il cavallo da matto in f2 vuol dire che il re deve stare in f1 per forza, altrimenti occupa la casa del cavallo. E quando il cavallo da matto in g3 prima stava in f1, quindi il re deve stare in f2 per forza. Quindi abbiamo capito bene dove dobbiamo mettere i pezzi, ora dobbiamo effettivamente posizionarli e dare matto. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è togliere la casa g2 e g1 con il re. Possiamo farlo con re f2 o con re f3. Calcoliamo prima re f2, a questo punto re h1, cavallo g3, re h2, mettiamo il cavallo in f1, re h1 e in questa posizione se toccasse al nero sarebbe obbligato a giocare h2 e noi giocheremo cavallo g3 matto. Quindi ci potrebbe venire in mente di perdere un tempo. Sfruttiamo la tecnica della triangolazione che abbiamo visto nel secondo video di questa serie. Solo che, allora, il re deve stare a difendere queste due case, quindi non possiamo spostarlo. Dobbiamo pensare di triangolare col cavallo. Abbiamo un solo piccolo problema, che il cavallo non sa triangolare. Che cosa vuol dire triangolare? Ricordiamolo brevemente, significa perdere un tempo con una combinazione di un numero dispari di mosse. In generale 3, per questo si chiama triangolazione. Qual è l'idea? Che se facciamo un numero dispari di mosse, il re passa in h2, poi torna in h1, poi finisce in h2 e ha cambiato posizione. Solo che, se facciamo un numero dispari di mosse col cavallo, riusciamo a tornare in f1? No, perché il cavallo, quando fa un numero pari di mosse, torna su una casa del suo stesso colore. Quando fa un numero dispari di mosse, torna su una casa di colore opposto. Questo vuol dire che da f1, se facciamo un numero dispari di mosse, non possiamo tornare in f1. Ma non solo, non possiamo nemmeno tornare in una qualsiasi delle case bianche. Questo significa che questa variante è sbagliata, quindi non possiamo giocare a f2. In questa posizione bisogna giocare a f3. Se non possiamo triangolare col cavallo, possiamo triangolare col re. Nel senso che adesso re h1 e adesso giochiamo a re f2, abbiamo perso un tempo con re. A questo punto, chiaramente, l'avversario non è che può giocare a h2 perché si prende cavallo g3 matto. L'unica mossa onesta e decente è re h2. E a questo punto abbiamo il nostro piano per portare il cavallo in f1. Perché non passo da g3 per portare il cavallo in f1? E c'è questa piccola brutta cosa che con cavallo g3 è patta e quindi non funziona. Dobbiamo per forza fare un giro di quattro mosse. In questo caso scegliamo il percorso con d4, magari dopo facciamo vedere il percorso con cavallo c3 che è completamente analogo. L'idea è che a questo punto il re è forzato ad andare in h1 e qui è importante giocare cavallo f5, minacciando cavallo g3. Perché? Perché se qua noi distrattamente giochiamo cavallo c2, l'idea è sempre cavallo e3, cavallo f1, ci becchiamo h2 in faccia e quando giochiamo cavallo e3 è patta, stallo. Per questo motivo cavallo c2 non va bene, la mossa corretta è cavallo f5 perché quando ci arriva h2 noi giochiamo cavallo g3 matto. Quindi se h2 non è possibile, re h2, a questo punto cavallo e3, il resto torna in h1, cavallo f1, minacciando matto, l'unica mossa possibile è h2 e cavallo g3 matto. Bene, abbiamo visto come questa eccezione possa darci spunti per comunque calcolare e vi avevo promesso di farvi vedere il percorso con cavallo c3, quindi abbiamo detto che la prima mossa era f3, re h1, re f2 e quando arriva re h2 possiamo sempre giocare cavallo c3. L'idea è sempre tornare in f1 ma facendo un percorso diverso, quando arriva re h1 mi raccomando adesso c'è la minaccia di giocare h2 quindi dobbiamo giocare cavallo e4, l'idea di cavallo e4 è che su h2 c'è cavallo g3, qui il nero deve giocare re h2, a questo punto cavallo d2, l'idea è andare in f1, re h1, cavallo f1, h2, cavallo g3 matto. Ok, torniamo nel mondo reale, questa posizione è già più fattibile nel senso che qui giochiamo solo per la patta, dobbiamo impedire al nero di promuovere il pedone in h3. Come si fa? Beh, è molto semplice, basta controllare la casa h2. Quali sono le case dalle quali controlliamo la casa h2? Beh, chiaramente g4, chiaramente f3, chiaramente f1. Questo vuol dire che se riusciamo a giocare cavallo g4, cavallo f1 continuando a controllare la casa h2 evitiamo che il pedone spinga o almeno quando spinge ce lo mangiamo. Tutto molto bello, il problema è che quando giochiamo cavallo g4 ci becchiamo re g3 e qui noi vorremmo giocare cavallo f1, solo che non ci arriva il cavallo fino in f1. E quindi ci troviamo un po' in una situazione bruttina. Qui ci viene in aiuto una componente tattica della posizione, cioè il fatto stesso che il re nero si trova in g3 ci permette di avere un'altra casa dalla quale possiamo controllare h2 tatticamente. E la casa da cui controlliamo h2 è e3. Il cavallo da e3 non controlla direttamente h2, chiaramente, però nel caso in cui l'avversario spingesse h2 ci sarebbe cavallo f1 scacco. Questo vuol dire che alla prossima ci mangiamo il pedone lo stesso. A questo punto il nero si accorge di avere questo problema con il re in g3 e sposta il re, gioca a re f3. Da notare che se avesse giocato re f2 noi avremmo giocato cavallo g4 con l'idea che dopo re g3 siamo tornati alla stessa posizione iniziale, no? Questa qua. Si vede dal fatto che sono cambiate le case evidenziate. Quindi dopo cavallo e3 il nero gioca a re f3 cercando di cambiare la posizione e qui semplicemente cavallo f1. Continuiamo a controllare la casa h2. Re f2, da notare sempre che se avesse giocato re g2, cavallo e3 scacco, re f2, cavallo g4 si torna sulla stessa posizione. Quindi re f2, cavallo h2, abbiamo impedito la spinta di pedone occupando la stessa casa e qui abbiamo visto che si crea questo quadrato. Finché il cavallo rimane in queste case riesce a impedire che il pedone promuova. Qui ad esempio ho re g2, cavallo g4, re g3, cavallo e3, si ripete la partita è pari. Ok, guardiamo un altro caso bruttissimo in cui il pedone è arrivato addirittura in settima, noi abbiamo il re lontano e dobbiamo pattare questo finale. Sono patte tutte le posizioni in cui abbiamo i pedoni centrali. Col pedone in g e col pedone in h facciamo un po' più fatica e dopo vedremo perché. Allora, in questa posizione ci stanno sparando sul cavallo, stanno minacciando di promuovere, abbiamo solo cavallo e1 come possibilità. Però qui notiamo subito una cosa molto divertente. Se qua il re nero decide di andare in d2, abbiamo cavallo g2 e abbiamo creato questa barriera. L'idea qual è? Che il re non può andare in e3 per avvicinarsi al cavallo, non può andare in e1 per avvicinarsi al cavallo. E se prova a fare il giro lungo giocando re d3, poi re 4, re f3 eccetera, c'è una bellissima cosa che si chiama forchetta, che ci permette di prendere il pedone. La prossima mossa, sacrifichiamo il cavallo sul pedone e abbiamo pareggiato. Allo stesso modo, se qui prova a giocare re d1 ad esempio, noi semplicemente ci avviciniamo con il re perché il re non sta minacciando niente, cioè sta lì vicino al pedone e non fa niente e prima o poi battiamo. Quindi dopo cavallo e1, il re avversario è obbligato a provare di fare il giro lungo subito, giocando re d4. L'idea è quella di passare da e3 e andare a infastidire il nostro cavallo. Qui possiamo semplicemente dare scacco, re d3, cavallo e1, impediamo sempre la promozione, re 3. Nessuno sta minacciando il cavallo, nessuno sta minacciando di promuovere, abbiamo tempo per avvicinarci con re. Re f2, qui abbiamo sempre la schistedia di prima, cioè cavallo c2, questa volta l'abbiamo fatta dall'altro lato. L'idea è appunto questa, che quando ci attaccano da un lato, noi andiamo dall'altra parte, impediamo la promozione e la partita è pari. Ricordiamo che qui, ad esempio, se l'avversario gioca a re f3, si becca cavallo d4, la solita forchetta e ci prendiamo il pedone la prossima. Qui invece di dire f2, poteva giocare re d2, ma la storia era completamente analoga, cavallo g2 e su re d3, cavallo f4, si prende il pedone. Ecco, questa componente tattica della forchetta, dello scacco con attacco anche sul pedone, è la chiave di questi finali ed è un meccanismo di difesa molto utile. In questo caso, ad esempio, ci troviamo nella stessa situazione, il nostro re è lontano, il pedone sta per promuovere e il re è vicino. Allora, dobbiamo impedire che il pedone vada in d1, quindi cavallo f2 mi sembra forzata, tra l'altro arriva con scacco, quindi siamo super contenti. Re è 2 e qui cavallo e 4. L'idea qual è? Che stiamo attaccando il pedone e stiamo attaccando anche la casa c3. Ti direi, che te ne fai della casa c3? Eh, se qui l'avversario va a donna, si becca cavallo c3 scacco, forchetta, noi ci prendiamo la donna e la partita è pari. Qui abbiamo fatto giocare re 2, ma è la stessa cosa anche con re 1. Abbiamo lo stesso piano di prima, cavallo d3 scacco, e quando il re si sposta, cavallo b2. Abbiamo sempre la stessa barriera di prima, ricordiamo su re 3 c'è cavallo c4 scacco, e prendiamo il pedone. Uno dice, beh, dopo cavallo d3 scacco io non gioco re 2, gioco re d1. Ok, però adesso non stai minacciando il cavallo, non stai minacciando di promuovere, semplicemente mi avvicino con re. Re c2, cavallo f2, sempre la stessa storia. Cambia tutto quando i pedoni sono verso il lato. Più sono verso il lato, più il cavallo fa fatica a fermarli. Perché? È perché c'è poco spazio di manovra. Ad esempio in questa posizione proviamo ad utilizzare la stessa idea di prima con cavallo e2. Impediamo al pedone di promuovere, controlliamo la casa g1. Re f1, cavallo g3, re f2, e noi qui vorremmo giocare cavallo i2. Purtroppo la colonna i non esiste, e quindi ci dobbiamo spostare, non riusciamo più a controllare la casa di promozione del pedone. Manca poco alla promozione dello stesso pedone, appunto. Re 3, ci spostiamo col cavallo, g1 uguale donna. È importante comunque conoscere l'idea tattica della forchetta, perché l'avversario può sempre sbagliare. Magari in partita c'è poco tempo, e qui invece di giocare re f1, giocare f2. Qual è la mossa che ci permette di pareggiare, secondo voi? Potete mettere in pausa il video e cercare di dare la soluzione, ma è molto semplice. Cavallo f4. L'idea è appunto che stiamo attaccando il pedone, e stiamo attaccando la casa h3. Che te ne fai della casa h3? Se va a promozione, cavallo h3 scacco, re g2, cavallo per g1, la partita è pari. Chiaramente non sto a dirvelo, se muove il re e fa robe a caso, noi ci mangiamo il pedone ed è pari. Adesso, in questa posizione siamo più contenti di prima, nel senso che il pedone è in h, è il pedone verso il lato, bruttissimo. Però il re è più lontano rispetto a prima, e quindi riusciamo a pareggiare. In questa posizione il cavallo crea una barriera. In che senso? Nel senso che il re nero non può entrare in nessuna di queste quattro case. Per quale motivo? Allora, chiaramente i4 ed i2 le controlliamo, qui il re non ci può andare proprio legalmente. Se il re invece prova ad andare in e3, c'è cavallo f1, con l'idea di mangiare in h2, visto che diamo scacco. Sempre la stessa idea della forchetta. E lo stesso vale per re di 2, cioè cavallo f1, scacco, ci mangiamo h2. Questo vuol dire che il re deve fare il giro lungo, deve fare un percorso strano per andare ad attaccare il cavallo. E quindi noi abbiamo tempo di avvicinarci col re e salvare la partita. Vediamo che cosa può succedere. Re c2, l'idea è appunto di utilizzare questo piano per andare ad attaccare il cavallo. Re f6, re d1, re f5, re 1, re g4, re f2, re h3, re g1, cavallo e 2 scacco. Qui, se vogliamo difendere h2, giochiamo re h1 e semplicemente cavallo d4. L'idea è sempre quella della forchetta. Dopo re g1, cavallo f3 scacco, re h1, cavallo per h2. Ma se io in questa posizione gioco re d4, faccio il giro da sopra, ancora peggio. Dopo re f6, le case sono tutte controllate. Re d5, re f5, si vede che il re arriva prima a raggiungere il pedone rispetto al re avversario. Vediamo un altro tipo di barriera. In questo caso, tutte queste quattro case sono sempre impossibili da raggiungere per il re nemico. Ancora una volta, d3 ed e4 sono controllate, mentre se va in e3 o se va in e5, c'è cavallo g4, scacco e si mangia h2. Per questo motivo, il nostro re riesce a raggiungere il pedone, perché il re avversario deve fare tutto il giro lungo. Re c3, re f6, re d2, cavallo h1, re 2, re g5, re f3, re h4, re g2, cavallo g3. Non c'è più niente da fare, appena il pedone spinge, lo si mangia col cavallo. Se provi a aspettare col re, mi avvicino col re, non c'è più niente da fare. Ok, quindi fino adesso abbiamo capito che il cavallo non sa triangolare, che per evitare la promozione del pedone bisogna occupare o controllare la casa di promozione col cavallo. Bisogna sempre tenere a mente l'idea tattica della forchetta, ma ci sono altre cose da sapere? Altri piccoli particolari? Ecco, vediamo questa posizione ad esempio. Il re nero è lontano, il pedone sta andando a promozione, ma il re vediamo che è all'interno del quadrato. La mossa è al nero, come finisce sta partita? Mettete in pausa il video se volete stateci due minuti e qua si capisce subito. Ok, io ho tentato di truffarvi, perché qui con mossa al nero, qui il nero vince, nonostante il re sia nel quadrato. Il problema è che il cavallo, quando sta in G2, è uno svantaggio incredibile. Quando il cavallo sta nella seconda traversa della colonna di cavallo e viene attaccato da un pedone di torre, la partita rischia di finire persa. Per quale motivo? H3, il re deve entrare nel quadrato, quindi re F1. Non possiamo sognarci di giocare cavallo F4, perché H2, re F2, H1, promozione. Ma anche se dopo H3 giochiamo re F1, le cose non migliorano, perché il nero non è obbligato a mangiare il cavallo in G2. Puoi giocare H2, che è molto più forte. Controllando la casa G1, il re è costretto ad abbandonare il tentativo di mangiare il pedone. Per quale motivo? Eh, il cavallo ostruisce l'altra casa di entrata al quadrato e quindi la partita finisce in poche mosse. Re F2, H1 uguale donna. Vediamo un altro esempio di particolari da conoscere bene. In questo momento il re sta attaccando il nostro pedone, abbiamo il re lontano e dobbiamo cercare di vincere questa partita. Che mossa giocate in questa posizione? Beh, sicuramente bisogna difendere il pedone, quindi vi do tre candidate, C5, cavallo B6 o cavallo B2. Mettete in pausa il video e cercate la soluzione migliore, secondo voi. Allora, qua eravate molto in vantaggio perché due risposte su tre vanno bene. Va bene, sia cavallo B2, sia C5. Quella sbagliata è cavallo B6. Se avete pensato cavallo B6, mi dispiace. L'idea è molto semplice, il cavallo difende bene il pedone ed è difeso esso stesso dal pedone, quando lo difende da dietro. Quando giochiamo C5 infatti il cavallo ha una traversa più indietro del pedone e allo stesso modo quando giochiamo cavallo B2 il cavallo è due traverse più indietro del pedone. L'importante è che stia dietro. Si vede subito che in questa posizione non è possibile giocare re C3 perché mentre il re va ad attaccare il cavallo, C5, il pedone va a promozione e mangia ti pure l'equino, io voglio una donna. Quello che può fare l'avversario chiaramente è re C5. Qui semplicemente ci avviciniamo con il re, l'avversario starà lì a ondeggiare, re F3 e re C5. Ancora una volta non è possibile andare ad attaccare il cavallo perché C5, il re fuori dal quadrato, si prende la donna e l'avversario abbandona. Quindi re F3, re C5, re 4, re D6, re D4, re C6, C5. Nonostante il re sia dietro, questo finale è vinto semplicemente perché quando arriviamo in settima con scacco perdiamo un tempo col cavallo e forziamo la vittoria. Facciamo vedere rapidamente. Qui arriviamo in settima con scacco ma appena l'avversario si sposta non siamo obbligati a muovere il re e da restarlo possiamo giocare cavallo D3 ad esempio. Così re B7, re D7, re B6 e qui se siete dei veri uomini prendete l'alfiere. Ok lo stesso ragionamento vale per C5, il finale è del tutto analogo, il problema è appunto cavallo B6. Cavallo B6 è brutto perché si becca subito re C5. Questa volta il re può attaccare davvero il cavallo perché quando lo va a mangiare non esce dal quadrato, ci entra ancora di più. E qui non facciamo in tempo perché vabbè re G2, re per B6, re F3, re C5. Re 4 e re per C4. Va bene iniziamo a vedere qualcosa che già più somiglia alla realtà. Questa è una posizione che molto probabilmente qualcuno di voi potrebbe aver visto davvero nella vita, non sono degli studi. È una posizione in cui noi abbiamo un pezzo in più e i pedoni sono bloccati. Solo che il re avversario è molto più attivo del nostro. Quello che dobbiamo sapere sui pedoni bloccati, cioè che si impediscono l'avanzata a vicenda, è che il cavallo li difende molto bene. In questa posizione se tocca al bianco, ad esempio, può giocare cavallo D6. E vediamo come il re è tagliato fuori dalla possibilità di mangiare il pedone. Quindi dovrà avvicinarsi sempre col giro lungo, re G5. Nessuno sta minacciando di mangiarmi il pedone, quindi io ho tempo di giocare re B2. Re F4 e qui cavallo F7. Notiamo subito che qua, se il re prova a tornare indietro a mangiarsi il cavallo, re F5, re C3, re G6, dopo cavallo D6 otteniamo la stessa posizione iniziale, solo che il nostro re non è più in A1, è in C3. Quindi dopo cavallo F7 che ha difeso il pedone, il re non tornerà indietro, cercherà di tagliare il nostro fuori dei giochi. Purtroppo fallisce perché noi ci avviciniamo, re D5, diamo l'opposizione, dimostrando di aver guardato il secondo video di questa serie. Re C5, re 4, con calma si penetra all'interno della posizione avversaria. Re D7, re C5, re E7 e prenditi il cavallo. Qui è impossibile mangiare il cavallo, cioè è impossibile. Qui il nero perde se mangia il cavallo, ma anche se non lo mangia, perché c'è semplicemente re D7, il re ha preso l'opposizione, non può rimanere a difesa del pedone, quindi re F8, re per E6, re 8. Possiamo biasimare che l'avversario abbia preso il cavallo con ingordigia? No, perché in questa posizione cosa puoi giocare? Re F8 ad esempio, re D6, mi vado a mangiare il pedone senza che tu prenda il cavallo. A sto punto il cavallo te lo mangia adesso, re D7, re F8, re E6, re 8. Niente, questo era come si vinceva questo finale, il cavallo difende molto bene i pedoni bloccati, quindi quello che si deve fare è semplicemente avvicinarsi col re. E adesso torniamo alle cose che non succederanno mai nella nostra vita. No, ok, questo è uno studio, ma è già più verosimile, diciamo. Quando dobbiamo studiare i finali di cavallo e pedone contro cavallo, ha senso, dal mio punto di vista, almeno per quanto riguarda il livello elementare, studiare quelli dove abbiamo già il pedone in settima. Perché se il pedone è arretrato, chiaramente è facile che l'avversario riesca a bloccarlo col re, sacrificarci un cavallo sopra e pattare la partita. È importante conoscere almeno come si vince quando il pedone è già in settima che sta minacciando delle cose. Allora, qui abbiamo un'idea molto semplice, che è quella del sacrificio di cavallo. Il nostro problema qual è? Che il cavallo ci sta impedendo la promozione del pedone. Se noi adeschiamo il cavallo via da questa casa, o comunque via dalla difesa della casa b8, noi giochiamo b8, prendiamo la donna e vinciamo la partita. Quindi adesso che possiamo fare? Eh, bisogna manovrare il cavallo e cercare di trovare una casa dalla quale attacchi il cavallo avversario. Ad esempio, re b4, qui una mossa decente a re c5. Vediamo che su re c7, ad esempio, c'è subito cavallo d5. E qui, dove va va, si becca cavallo b6, in pratica. Cioè, ad esempio, re c6, cavallo b6, stiamo già attaccando il cavallo in d7. Devi giocare cavallo e5, ma a questo punto semplicemente si promuove. Uno dice, magari la casa c6 mi serve in un qualche modo, facciamo giocare re d8. Sempre cavallo b6. Se qua provi a giocare cavallo in e5, b8 uguale donna arriva con scacco e quindi non hai tempo di dare la forchetta. Mi serve la casa c6, non mi fare andare in ottava traversa, fammi giocare re d6. Allo stesso modo, re b7, quando giochi cavallo e5, stavolta con l'idea vera della forchetta, adesso non si può promuovere, c'è cavallo c4, che è l'attacco doppio. Ti costringo a mangiarmi il cavallo e b8 uguale donna. Per questo motivo il nero, nella vita, vuole giocare re c5 per evitare di prendersi cavallo b6. Cavallo d3, scacco, re d5, cavallo f4, cerchiamo di raggiungere la casa f6 o la casa f8. Re c6, il re non è che ha molto da fare in questa posizione. Re g6, il piano è chiaramente attaccare la casa f8. Re d5, cavallo f8. E qui non abbiamo molto da fare. Dobbiamo comunque rimanere a difesa della casa b7 e non possiamo mangiare il cavallo, chiaramente, perché altrimenti si promuove. Quindi cavallo e5 è l'unica soluzione, sempre con l'idea della forchetta. Re b6, cavallo c6 è l'unico modo per difendere la casa di promozione. Cavallo d7. Il re avversario non ha molto da fare, il cavallo non si può muovere perché deve rimanere a difesa della casa di promozione. Quindi re d6, cavallo e5, e questo è un sacrificio, non si può mangiare col re perché si perde il cavallo. Non si può mangiare di cavallo perché si prende la donna e quindi l'unica soluzione qui è cavallo b8. Ancora una volta possiamo lasciare il cavallo in presa, non c'è fretta. Cavallo a7, attacchiamo il suo di cavallo. Re c7 è l'unica alternativa. Se qui si sposta il cavallo, il cavallo viene cambiato. Re c7, cavallo c4. Cavallo c6, scacco. Re a8, cavallo b8, cavallo b6. Ancora una volta il cavallo non si può prendere perché si perde l'altro cavallo. Cavallo a6, cavallo d5. E qui qualsiasi cosa faccia il nero perde perché su re c6 c'è cavallo b4. Ancora una volta questo è un doppio quindi il cavallo qui si deve mangiare e poi si va a donna. Se invece di re c6 in questa posizione magari gioca re d6, con re a7, il cavallo non può più tornare in b8 perché non c'è più il re a difenderlo. Quindi cavallo c5, si va a promozione, mangiati pure il cavallo, sto finale è vinto. Mettiamo caso che allora il re avversario vada in d8. Ancora una volta, re a7. Il cavallo in b8 non ci può andare perché non sarebbe più difeso e quindi la partita finisce in questo modo. Bene, abbiamo visto che è importante calcolare in questi finali, abbiamo visto che il cavallo non può triangolare, abbiamo visto come si ferma il pedone in settima, abbiamo visto il piano di sacrificare il cavallo e per il resto? E per il resto questi finali di cavallo sono uguali ai finali di pedone. Quindi quello che conta sono i pedoni passati e l'attività del re. L'unica idea in più è appunto quella del sacrificio di cavallo. Vediamo ad esempio in questa posizione il bianco ha due pedoni in meno ma uno è passato ed è anche in b6 quindi sta per andare a promozione. E quindi niente, in questa posizione potete mettere in pausa il video, il bianco muove e vince. Allora, essendo un finale di pedoni possiamo utilizzare solo due piani, più quello del sacrificio di cavallo in questo caso, o spingiamo il pedone passato a promozione oppure attiviamo il re. Vediamo che attivare il re non ha alcun senso in questa posizione perché dove lo mettiamo? Lo metto in a6? Questi pedoni si difendono da soli, quindi è difficile che il mio re riesca a fare la differenza. Molto più forte è il pedone passato che devo cercare di spingere. Se io gioco g7 però in questa posizione mi becco cavallo c6. L'idea qual è? Che in questo momento mi stanno togliendo la casa e7 al cavallo e più che altro stanno minacciando di inserirvisi loro e con loro intendo il cavallo. Se qui ad esempio cavallo f6, cioè cavallo e7, anche se riuscissi a promuovere e a guadagnare il cavallo, questa posizione come minimo è pari. Cioè se il nero non ha voglia di far valere la forza di questi due pedoni passati, può semplicemente avvicinarsi col re, andare a attaccare il pedone, io col cavallo devo stare fermo a difendere il pedone, questi pedoni non si possono mangiare col re perché come abbiamo visto si difendono da soli, come minimo il nero ha la patta. Però secondo me in questa posizione può giocare per vincere. Detto questo noi volevamo vincerla sta partita, quindi sicuramente né la patta né la sconfitta ci vanno bene. La massa giusta è cavallo e7 con un'idea particolare, quella caratteristica di questi finali. A questo punto stiamo davvero minacciando g7 e g8 perché controlliamo la casa c6, quindi l'avversario deve evitare che il nostro pedone vada a promozione, quindi giocherà cavallo d7. L'idea di cavallo d7 è semplicemente cavallo f6 e controlliamo la casa g8 di promozione. Ma qui c'è cavallo c6 scacco, una mossa molto interessante perché qui il re si deve spostare, re b6 per esempio, e possiamo giocare cavallo per e5. Questo tema è il classico sacrificio di cavallo, se qui cavallo per e5, g7 e g8 alla prossima. Quindi visto che il cavallo non si può mangiare si deve giocare cavallo f6. E qui vi esorto a mettere in pausa il video per vedere se riuscite a trovare almeno adesso la mossa vincente. E sì signori la mossa vincente è cavallo d7. Se qui ad esempio si gioca g7 la partita è sempre pari perché cavallo g8, il cavallo non lo si tira più via da questa posizione, il re può lasciare in difese questi pedoni e andarsi a mangiare questo pedone e di conseguenza anche quello in g7 la partita finisce pari. Molto più precisa è cavallo d7. A questo punto è forzato a cavallo per d7 e a questo punto non si può giocare g7 chiaramente. Perché con cavallo f6, anche se mi attacchi il cavallo, cavallo g8, e questi pedoni sono in difesi, cadranno e il nero vince la partita. Quindi dopo aver sacrificato il cavallo la mossa da fare è e5 subito. L'idea è togliere la casa f6 e ancora una volta non si può mangiare il pedone. Perché altrimenti g7 e alla prossima si promuove. Ad esempio, re c5, g8 uguale donna. Quindi dopo e5 il nero non ha proprio più nulla da fare. Puoi giocare ad esempio re c5, g7, re d4, g8 uguale donna, mangiate il pedone, ho una donna contro cavallo e tre pedoni, sta partita si vince. Bene, il video è finito. Nella speranza che questo video abbia aiutato i vostri avversari a pronunciare le parole E alla fine ce l'ha fatta, io non so come ce l'ha fatta, ma ce l'ha fatta. Se avete colto sta citazione raga siete fortissimi, io vi voglio bene comunque sappiatelo. Altro che zala, questa è la roba che mi dovete capire. Per il resto un buon proseguimento di giornata, di serata o di quello che è. Ciao a tutti. Ciao a tutti.